Stiamo andando al Festival Anzine. Artbook Stories, un progetto nato ad aprile 2017 in collaborazione con Fitstick e l'associazione Crudo. Abbiamo girato tre capitali europee, Parigi, Amsterdam e Madrid. In tutte queste città abbiamo realizzato dei video, delle video interviste a tutti gli artisti indipendenti presenti alle varie fiere. Per andare alla ricerca e all'investigazione di un contesto, di situazioni che si vengono a creare all'interno di queste diverse fiere e per cercare di aumentare la coscienza delle persone relativamente a questo mondo, quello dell'editoria indipendente. Nel corso di questo percorso di studi ho potuto sviluppare diverse tematiche che mi sono poi tornate utili nel sviluppo del project work. Il project work ha dato modo a me e ai miei compagni di mettere in pratica le competenze acquisite ed è una cosa di cui di sicuro mi ricorderò anche più avanti e che penso potrà tornarmi utile in ambito lavorativo.